Ovindoli da vivere, non solo d'inverno. L'associazione Eventi Montani conferma per l'estate 2015 la presenza di un evento dedicato allo sport per vivere la montagna anche d'estate. Sport, outdoor, tradizioni e natura in Abruzzo, nel cuore del parco regionale Sirente Belino. E l'Ovindoli Monta in Festival Summer Edition, in programma dal 17 al 19 luglio, una montagna da vivere, scoprire, esplorare e provare. Le attività che proporremo in questo festival versione estiva saranno tantissime, fra le quali abbiamo parapendio, arrampicata, sled dog, escursioni e trekking in montagna, anche dal punto di vista un po' più filosofico o con discipline un po' più orientali. Ci sarà il coinvolgimento da parte delle attività locali come i maneggi e attività prettamente legate al paese, quindi diciamo sarà in rappresentanza anche dal punto di vista culinario e culturale un festival vero e proprio del territorio. Tutte le attività sono proposte allestite nella zona dei pratoni di Valle d'Arano, a pochi passi dal borgo storico di Ovindoli. Una montagna da conoscere anche sotto l'aspetto delle tradizioni e della storia, infatti si potrà scoprire l'allevamento del pastore abruzzese, ad esempio, la mongitura del latte, la produzione del formaggio, la via degli antichi pascoli e le coltivazioni di montagna. Accanto a questi aspetti spazio anche alla musica con il blues protagonista. La massima espressione in Italia è Fabio Treves che abbiamo come ospite quest'anno, precisamente il 19 luglio, con la sua band e avrà a suo seguito anche due artisti americani, Guita Ray e Gabby, che sono due elementi molto conosciuti negli Stati Uniti perché accompagnano diverse star del blues, tra cui Muddy Waters e anche BB King, che recentemente è scomparso.